Subito come sempre il sommario della puntata odierna in cui ci occuperemo della disdetta unilaterale del contratto nazionale delle tutte blu da parte di Federmeccanica, del difficile rinnovo del contratto integrativo aziendale dell'autocamionale della Cisa e dei temi affrontati da Susanna Camusso nell'incontro di Ravadese lo scorso 3 settembre. Il focus sarà dedicato al collasso cui sta andando incontro il sistema scolastico tra tagli ed equalificazione dell'offerta formativa mentre per l'informazione in pillole ci occuperemo del riconoscimento delle protesi in caso di infortunio. Infine la rubrica dedicata al consumo consapevole dove parleremo di servizi di depurazione e restituzione dei canoni agli utenti che non ne hanno beneficiato.